Secondo round del campionato di promozione Girone B, il Ligorna dei Giovani di Dolcino ospita la San Margheritese di Camisa, reduce dal convincente 2-0 contro il Magra Azzurri. Pronti via Bertorello su punizione, lambisce la traversa, pimpanti gli ospiti si rendono pericolosissimi a quarto d'ora, Neirotti spizzica per Gazzano, tiro preciso ma poco potente, Gadaleta, plastico in corner, la gara sa rendersi divertente solo a sprazzi, azione ben congegnata della San Margheritese alla mezz'ora, appoggio delizioso di Castagnola per Neirotti, tiraccio sbilin compiamente a lato. Andrea Gianotti con riprese e montaggio ci porta ad una seconda frazione che si apre come nel primo tempo con gli ospiti in avanti, Gazzano di sinistro dalla distanza manda a lato non di molto, gara che perde di intensità, lo spunto di Piropi al 64esimo è decisivo per sbloccare il risultato, discesa sulla sinistra, cross basso per Neirotti, Rapace anticipa tutti i difensori bianco-blu, al 76esimo si scuote la squadra di casa, vicina al pari con un siluro di Cilia da fuori, palla che si schianta sul palo, bianco raccoglie in posizione di offside. Ligorna troppo compassato per 75 buoni minuti, la San Margheritese ne approfitta e porta con sé tre punti e è primato. Dal Ligorna è tutto, a voi la linea studio. Grazie. Grazie. Grazie.